Degli amici di Sandro, quello che viene al mare qui da 55 anni e non paga mai perché mette sul mio conto. Vi presento... Simona. Simona, che... sei di Rimini? Sì. Che è di Rimini. Al contrario di... Lello. Che è di... Mantua. Di Mantua. Però la cittadinanza Rimini, perché anche d'inverno me lo trovo sempre fra le scatole in tutti i tornei di calcio, palacanesto, gioca a tutto. Da quanto tempo viene al mare qua? Da 26 anni. Da 26 anni. Io ho sempre notato in Lello una somiglianza con Lando, quello dei giornalini. Lando ha tre palle, sono io. Ah, ecco, ecco, adesso ho capito, ho capito molte cose, ho capito. Tu, Simona, come ti trovi qui a Loasi? Come sempre. Cioè, malissimo. Bene, normale. Ma come, ci troviamo tutti male, tu sei l'unica che si trova bene. Eh, vabbè, oh. È l'unica che si trova bene. Non male. Lei sta bene qui, noi stiamo tutti male, Simona sta bene al bagno. Ma hanno pagato Tarciso prima? Ah, ho capito. Io sono l'unico che paga, vabbè.